Musica Nella festa della Cattedra di San Pietro si è celebrato questa mattina il Giubileo della Curia Romana. Un primo momento si è vissuto in Aula Paolo VI dove i dipendenti della Curia Romana, del Governatorato e delle istituzioni collegate alla Santa Sede hanno ascoltato una meditazione del Gesuita Padre Rupnik. Successivamente si è tenuta la processione verso la Porta Santa. Sempre questa mattina a coronamento del Giubileo della Curia Romana, Papa Francesco ha celebrato la Santa Messa nella Basilica Vaticana nella festa della Cattedra di San Pietro. L'Omelia ha preso lo spunto dal Vangelo proclamato, come prevede la liturgia, tratto dal capitolo 16 di Matteo sul Primato di Pietro. Lettere credenziali presentate a fine mattinata da due nuovi ambasciatori presso la Santa Sede. Sono l'ambasciatore di Timor Orientale e quello di Argentina. In Messico un'esperienza di trasfigurazione, così il Papa L'Angelus di ieri, ricordando il recente viaggio apostolico. La luce della fede del popolo di Tio, ha affermato, trasfigura i volti e rischiara il cammino. Anche l'incontro con il Patriarca Chirilla è una luce profetica di risurrezione. Francesco ha regalato la misericordina e ha chiesto nessuna condanna a morte venga eseguita in questo anno santo della misericordia. Il Papa ha chiesto una giustizia penale sempre più conforme alla dignità dell'uomo e al disegno di Dio sull'uomo e aperta alla speranza del reinserimento nella società. L'abolizione della pena capitale ha il suo tempo propizio nell'anno santo. Il comandamento non uccidere ha valore assoluto e riguarda sia l'innocente che il colpevole, ha ricordato Francesco. I cristiani sono chiamati ad impegnarsi a portare la misericordia di Dio soprattutto dove c'è sete di speranza. È quanto affermato da Papa Francesco nell'udienza generale giubilare tenuta sabato scorso in piazza San Pietro, gremita di fedeli tra cui 25.000 donatori di sangue provenienti da tutta Italia. Il pontefice ha sottolineato che Gesù è il grande impegno di Dio nei nostri confronti ed ha ribadito che la sua misericordia cambia il cuore dei peccatori. In una umanità così frammentata è urgente farsi testimoni di una Chiesa che include e che rifugge dalla tentazione di acquisire un carattere parastatale, parainperiale. Lo ha detto il gesuita padre Marco Ivan Rupnik, direttore del Centro Aletti, che ha tenuto la meditazione dopo la celebrazione dell'ora media in Aula Paolo VI con cui ha avuto inizio questa mattina il Giubileo della Curia Romana, nel giorno nel quale la Chiesa festeggia la festa della Cattedra di San Pietro. Il Papa è rimasto ad ascoltare fra gli altri cardinali in prima fila dopo aver fatto il suo ingresso nel corridoio centrale dell'Aula, gremita di persone, non solo cardinali, vescovi, sacerdoti e religiosi, ma anche il personale laico degli uffici di Curia che lo aspettavano festosi. Rupnik ha messo in guardia dal pericolo dell'istituzionalizzazione della fede e della Chiesa. Cristianesimo non può essere inteso come un sostituto di una religione pagana. Abbiamo abbattuto un Dio e abbiamo messo Cristo. No, no, mi dispiace, perché nessuna religione e nessuna legge intesa in questo modo può fare una costituzione dell'uomo nuovo. E non si tratta di aggiustare un po' l'uomo, ma di farlo rinascere, di farlo risorgere, di farlo nuovo, di farlo filiale. E per essere filiale qualcuno ti deve generare, non c'è verso. La nostra fede, ha ricordato Gesuita, è un'accoglienza di una vita e questo è il compito della Chiesa, manifestare a quale grandezza, a quale bontà siamo destinati e far vedere al mondo ciò che Dio fa quando scorre attraverso l'umanità. Portare tutte le patologie del mondo dentro di noi sarebbe dare scandalo al mondo, far vedere che viviamo il cristianesimo in maniera individuale. Poi Rupnik ha citato una frase di Solovev, la perfezione della Chiesa è nell'organizzazione, che non è però formare commissioni, ma è prendere coscienza che la Chiesa può portare al mondo una trasfigurazione della società, perché rivela il mondo di essere includente, di essere una Chiesa che include l'altro e lo coinvolge. Successivamente ha avuto inizio la processione che dall'Aula Paolo VI ha portato i partecipanti alla Basilica Vaticana. Il Papa, come semplice fedele, ha seguito la croce circondato dalle migliaia di dipendenti della Curia Romana, del Governatorato e degli organismi collegati della Santa Sede. Il Papa ha percorso tutto il tragitto a piedi dall'Aula Paolo VI, scendendo i gradini e passando attraverso il braccio di Carlo Magno, è giunto in piazza San Pietro e da qui si è diretto verso la Porta Santa per entrare in Basilica, luogo della celebrazione eucaristica, che ha presieduto a partire da qualche minuto prima delle 10.30. Nel giorno della festa della Cattedra di San Pietro, Papa Francesco ha celebrato questa mattina la Santa Messa nella Basilica Vaticana a conclusione del Giubileo della Curia Romana. Il Vangelo proclamato, come prevede la liturgia, il passo del capitolo 16 di Matteo sul primato di Pietro. La domanda centrale del brano, dalla quale Francesco ha preso lo spunto, è «Voi chi dite che io sia?» Una domanda chiara e diretta, senza nulla di inquisitorio piena di amore. «L'amore del nostro unico Maestro, che oggi ci chiama a rinnovare la fede in Lui, riconoscendolo quale figlio di Dio e Signore della nostra vita. E il primo chiamato a rinnovare la sua professione di fede e il successore di Pietro, che porta con sé la responsabilità di confermare i fratelli». E il Papa ha proseguito invitando a far sì che la grazia plasmi di nuovo il nostro cuore per credere e aprire la nostra bocca, per compiere la professione di fede e ottenere la salvezza. Gesù ha ricordato il Papa è il fondamento e nessuno ne può porre uno diverso. Lui è la pietra su cui dobbiamo costruire. «Non è la pietra che trae il suo nome da Pietro, ma è Pietro che lo trae dalla pietra. Così come non è il nome Cristo che deriva da Cristiano, ma è il nome cristiano che deriva da Cristo. La pietra è Cristo sul fondamento del quale anche Pietro è stato edificato». Da questa professione di fede, ha sottolineato il pontefice, deriva per ciascuno di noi il compito di corrispondere alla chiamata di Dio. Ai pastori, anzitutto, viene richiesto di avere come modello Dio stesso che si prende cura del suo gregge, un comportamento che è segno dell'amore e che non conosce confini, una dedizione fedele, costante e incondizionata, perché a tutti i più deboli possa aggiungere la sua misericordia. «E tuttavia non dobbiamo dimenticare che la profezia di Ezechiele prende le mosse dalla constatazione delle mancanze dei pastori di Israele. Pertanto fa bene anche a noi, chiamati ad essere pastori nella Chiesa, lasciare che il volto del buon Dio pastori ci illumini, ci purifichi, ci trasformi e ci restituisca pienamente rinnovati alla nostra missione». «Che anche nei nostri ambienti di lavoro, ha proseguito Francesco, possiamo sentire coltivare e praticare un forte senso pastorale, anzitutto verso le persone che incontriamo tutti i giorni, che nessuno si senta trascurato o maltrattato, ma ognuno possa sperimentare prima di tutto qui la cura premurosa del buon pastore». E il Pontefice ha concluso invitando i presenti a fare in modo che il Signore ci liberi da ogni tentazione che allontana dall'essenziale della missione e a riscoprire la bellezza di professare la fede nel Signore Gesù. «La fedeltà al Ministero bene si coniuga con la misericordia di cui vogliamo fare esperienza. Nella Sacra Scrittura, d'altronde, ha detto ancora il Papa, fedeltà e misericordia sono un binomio inseparabile, dove c'è l'una, là si trova anche l'altra e proprio nella loro reciprocità e complementarietà si può vedere la presenza stessa del buon pastore». A fine mattinata il Santo Padre ha ricevuto due ambasciatori per la presentazione delle lettere credenziali. Alle 12.30 il signor Egas da Costa Freitas, ambasciatore di Timor Orientale presso la Santa Sede, nato a Baucau in Timor Orientale il 24 marzo 1968. Laureato in filosofia e teologia, attualmente docente nella High School 298 in Vimas e vice segretario del Consiglio Pastorale della Diocesi di Baucau e membro attivo della Commissione per la Catechesi. Conosce il portoghese e l'inglese. Alle 13.00 ha ricevuto il signor Rogelio Francisco Emilio Furter, ambasciatore della Repubblica Argentina, presso la Santa Sede, nato a Santa Fe, il 25 agosto 1948. Laureato in diritto e membro del Consiglio Argentino per le relazioni internazionali. Inoltre è titolare della Cattedra di Diritto Penale Internazionale presso l'Università Kennedy e di quella di politiche pubbliche presso l'Universidad Austral. Il viaggio apostolico in Messico è stata un'esperienza di trasfigurazione, così il Papa rivolgendosi ai fedeli che hanno gremito la piazza per l'Angelus della seconda domenica di Quaresima. La luce della trasfigurazione di Gesù è nella luce della fede che illumina i volti del popolo di Dio. Il Signore ci ha mostrato la luce della Sua gloria attraverso il corpo della Sua Chiesa, del Suo popolo santo che vive in quella terra. Un corpo tante volte ferito, un popolo tante volte oppreso, è stato disprezzato, violato nella sua dignità. In effetti i diversi incontri vissuti in Messico sono stati pieni di luce, la luce della fede che trafigura i volti e richiara il cammino. Quindi Francesco ha indicato il baricentro spirituale del pellegrinaggio, il santuario della Madonna di Guadalupe, laddove la Virgen Morenita si mostrò all'Indio San Juan Diego, dando inizio all'evangelizzazione del continente. Rimanere in silenzio davanti all'immagine della madre era ciò che prima di tutto mi proponevo. E ringrazio Dio che me lo ha concesso. Ho contemplato e mi sono lasciato guardare da con lei che porta impressi nei suoi occhi gli sguardi di tutti i suoi figli e raccoglie i dolori per le violenze, i rapimenti, le uccisioni, i soprussi a danno di tanta povera gente e di tante donne. Francesco ha reso grazie al Signore e alla Vergine di Guadalupe per il dono di questo pellegrinaggio, per l'accoglienza gioiosa delle famiglie messicane al Papa come messaggero di Cristo, le testimonianze limpide e forti di fede che trasfigura la vita a edificazione di tutte le famiglie cristiane del mondo. Una lode, lode speciale, eleviamo alla Santissima Trinità per aver voluto che in questa occasione avvenisse a Cuba l'incontro tra il Papa e il Patriarca di Mosca e di tutta la Russia, il caro fratello Kirill. Un incontro tanto desiderato pure dai miei predecesori. Anche questo evento è una luce profettica di risurrezioni di cui oggi il mondo ha più che mai bisogno. La Santa Madre di Dio continui a guidarci nel cammino dell'amicizia e dell'unità e preghiamo la Madonna del Kassan. Il Patriarca Kirill mi ha regalato un'icona della Madonna del Kassan. La Quaresima è un tempo propizio per compiere un cammino di conversione che ha come centro la misericordia. Per questo, dice il Papa, ho pensato di regalare a voi in piazza una medicina spirituale chiamata Misericordina. La scatolina contiene la corona del rosario e l'immaginetta di Gesù Misericordioso. Accogliete questo dono come un aiuto spirituale per diffondere specialmente in questo anno della misericordia l'amore, il perdono e la fraternità. Il Pontefice chiede una giustizia penale sempre più conforme alla dignità dell'uomo e al disegno di Dio sull'uomo, aperta alla speranza del reinserimento nella società. L'abolizione della pena capitale ha il suo tempo propizio nell'anno santo. Il comandamento non uccidere, ricorda Francesco, ha valore assoluto e riguarda sia l'innocente che il colpevole. Il Giubileo straordinario della Misericordia è un'occasione propizia per promuovere nel mondo forme sempre più mature di rispetto della vita e della dignità di ogni persona. Anche il criminale mantiene l'inviolabile diritto alla vita donno di Dio. Faccio appello alla coscienza dei governanti affinché si giunga ad un consenso internazionale per l'abolizione della pena di morte e propongo a quanti tra loro sono cattolici di compiere un gesto coraggioso ed esemplare che nessuna condanna venga eseguita in questo anno santo della misericordia. Dopo la pioggia, un bel sole primaverile ha riscaldato i pellegrini giunti sabato scorso in piazza San Pietro, almeno 50.000, arrivati da tutto il mondo per la seconda udienza giubilare dall'inizio dell'anno santo. Francesco ha proseguito il suo cammino di catechesi sulla misericordia e si è soffermato in particolare sull'impegno che tutti i cristiani sono chiamati ad assumere per portare a ognuno l'amore di Dio. È un impegno che siamo chiamati ad assumere per offrire a quanti incontriamo il segno concreto della vicinanza di Dio. Cioè, la mia vita, il mio atteggiamento, il modo di andare per la vita deve essere proprio un segno concreto di che Dio è vicino a noi. Piccoli gesti di amore, di tenerezza, di cura, che fanno pensare che il Signore è con noi, è vicino a noi e così si apre la porta della misericordia. Impegnarsi, insomma, ha osservato Papa Francesco, vuol dire mettere la nostra buona volontà e le nostre forze per migliorare la vita. E ha notato che Dio per primo si è impegnato con noi. Il suo primo impegno è stato quello di creare il mondo e nonostante i nostri attentati per rovinarlo, ne sono tanti, egli si impegna a mantenerlo vivo. Ma il suo impegno più grande è stato quello di donarci Gesù. Questo è il grande impegno di Dio. Sì, Gesù è proprio l'impegno estremo che Dio ha assunto nei nostri confronti. Quindi, ancora una volta, ha ribadito che il Signore è venuto per cambiare il nostro cuore di peccatori. Gesù accoglieva con bontà i peccatori. Ma se noi pensiamo a modo umano, il peccatore sarebbe un nemico di Gesù, un nemico di Dio. E lui gli si avvicinava con bontà, gli amava e gli cambiava il cuore. Tutti noi siamo peccatori, tutti. Tutti abbiamo davanti a Dio qualche colpa. Ma non avere fiducia, lui si avvicina proprio per darci il conforto, la misericordia, il perdono. E questo è l'impegno di Dio. E per questo ha mandato Gesù, per avvicinarsi a noi, a tutti noi. E aprire la porta del suo amore, del suo cuore, della sua misericordia. E questo è molto bello, molto bello. A partire dall'amore misericordioso con il quale Gesù ha espresso l'impegno di Dio, ha proseguito il Santo Padre, anche noi possiamo e dobbiamo corrispondere al suo amore con il nostro impegno. E questo è stata la sua esortazione, soprattutto nelle situazioni di maggiore bisogno, dove c'è più sete di speranza. Francesco ha fatto così riferimento al nostro impegno con le persone abbandonate, con quanti portano handicap molto pesanti, con i malati più gravi, con i moribondi, con quanti non sono in grado di esprimere riconoscenza. In tutte queste realtà, ha affermato, noi portiamo la misericordia di Dio attraverso un impegno di vita, che è testimonianza della nostra fede in Cristo. Sempre portare quella carezza di Dio, perché così Dio ha carezzato noi, con la sua misericordia. Portarla agli altri, a quelli che hanno bisogno, a quelli che hanno una sofferenza nel cuore o sono tristi. Al momento dei saluti, il Papa ha rivolto un pensiero speciale alle federazioni dei donatori di sangue, dei genitori onco-ematologia pediatrica e dei motociclisti italiani, come pure all'Associazione delle Società di Mutuo Soccorso. Il Giubileo della Misericordia ha concluso sia per tutti un'opportunità per riscoprire l'importanza della fede e per diffondere nella quotidianità la bellezza dell'amore di Dio per ogni uomo. Prima pagina dell'Osservatore Romano con la data del 22-23 febbraio 2016. All'Angelus, dedicato al viaggio in Messico, il Papa chiede ai governanti di sospendere le esecuzioni capitali durante il Giubileo. Un gesto coraggioso. E alla Curia Romana raccomanda di essere comunità di servizio dove nessuno si senta trascurato e maltrattato. Le credenziali degli ambasciatori di Timor orientale e Argentina Quasi 200 morti in una serie di attentati a Damasco e a Oms. Il terrore jihadista colpisce la Siria.